che la bacchicuttura naturale ed economica sotto semplici tettoie possa dare ottimi risultati è quanto documenta questa ripresa di un allevamento d'eccezionale riuscita dove vedrete come i bruchi di filugello contenti dell'abbondantissima razione di fresca foglia di gelso e senza bisogno di altre cure abbiano filato senza farsi pregare i loro preziosi bozzoli lucenti grazie grazie